Sabato scorso, 26 agosto, con 39 gradi rilevati dall'osservatorio Valerio, è stata la temperatura più alta percepita a Pesaro da 71 anni. Un promemoria su un'estate particolarmente calda, che ci ricorda una problematica sicuramente globale, ma sulla quale si può agire anche localmente con alcuni interventi. Va in questo senso l'azione dell'assessorato all'ambiente di Maria Rosa Conti, che ha intrapreso una strategia precisa da diversi mesi, che ora si rafforza di ulteriori progetti. La strategia Fever, lo diciamo all'inglese per richiamare il caldo, il global warming, in realtà Fever come acronimo, significa funzioni ecosistemiche del verde o funzioni ecologiche del verde. Significa che il patrimonio naturale che abbiamo all'interno di un ecosistema urbano ha tantissime funzioni, come la captazione del CO2, la mitigazione termica, funzioni anche di regolamentazione idrica, quindi della gestione dell'acqua e quindi va anche verso una regolamentazione e una lotta anche al disestro idrogeologico. Quello che è importante, collegato a quello che è successo sabato scorso, ci fa capire che con questa strategia iniziata a maggio di quest'anno, per cui abbiamo dato l'incarico all'Università di Sassari, e per cui abbiamo già iniziato a poter partecipare in alcuni progetti europei come Horizon, che come sappiamo ha un programma specifico sul clima, sull'acqua, sulla gestione idrica e sulla lotta ai cambiamenti climatici, ci fa capire che questa pianificazione, questo focus della nostra città, può portare a delle azioni concrete, molto concrete. Come ad esempio capire come anche la nostra città può essere una città spugna, e cioè captare l'acqua nel momento delle alluvioni e restituirla, e quindi una mitigazione anche idrica. Come noi possiamo fare un'attività di forestazione urbana, e quindi utilizzare i grandi benefici che hanno gli alberi, la capacità che può avere un bosco, ma anche una semplice alberatura, di poter regolare il microclima all'interno della città, magari in luoghi dove c'è maggiore cementificazione, come se fossero appunto tanti climatizzatori accesi acqua 24, quindi anche con un risparmio energetico. Una città più verde, con una più sapiente gestione dell'acqua, con azioni che poi andranno a tradursi anche in proposte politiche, in consiglio comunale. Sì, perché la strategia FEVER fa questa pianificazione, e quindi significa che ci sarà prima di tutto un piano del verde, una mappatura generale di tutti i siti naturalistici e anche i corsi d'acqua, quindi infrastrutture verdi blu, private e pubbliche. Quindi avremo contezza di questo nostro patrimonio naturale e di tutti questi benefici e queste funzioni che potranno essere riportati per la comunità e per l'ecosistema urbano. Però tutto questo sarà tradotto anche finalmente in una nuova visione del rapporto tra il costruito e tutto quello che invece sono gli elementi verdi all'interno di una città, anche banalmente le alberature lungo dei viali. E quindi questo significherà una rivisitazione molto radicale del regolamento del verde, che è del 2016, e un'interlocuzione molto forte, anche una rivisitazione, degli allegati tecnici al PRG e quindi anche con un'ottica regolamento edilizio. Su questo abbiamo già iniziato un percorso con l'assessora all'urbanistica.